I sindaci del Lazio Meridionale ieri hanno partecipato alla consulta dei primi cittadini a Cassino, convocata subito dopo la decisione dei sindacati di scioperare il 18 ottobre. I primi cittadini quel giorno saranno a Roma per esprimere preoccupazione per il futuro dell'occupazione e chiedere misure urgenti. I timori di istituzioni e rappresentanti dei lavoratori si concentrano sulle prospettive del sito produttivo di Piedi, Monte e San Germano, le Frusinate, che già quest'estate è stato interessato dal blocco della produzione. I dati mostrano una flessione della produzione che inevitabilmente potrebbe avere ricadute occupazionali. Senza ammortizzatori sociali il prossimo passo saranno i licenziamenti. Questo lo scenario emerso nella consulta dei sindaci che sono determinati ad andare avanti avanzando queste richieste nei tavoli con Ministero e Regione Lazio. Sindacati e parti sociali si sono trovati uniti anche nel chiedere di rivedere la svolta sull'elettrico che, secondo i piani precedentemente studiati, avrebbe interessato anche lo stabilimento nel Frusinate.